Sì, direi una mattinata molto importante dove andiamo a dialogare su questo straordinario sistema, questa straordinaria opportunità che è l'enoturismo. Noi in Trentino abbiamo tanti prodotti eccellenti, abbiamo tante esperienze da poter fare e quindi crediamo che sia un settore che sta andando già abbastanza bene ma che ha enormi spazi ancora di miglioramento ma soprattutto può diventare un momento di attenzione da parte di tanti turisti che possono venire da noi a vedere le bellezze naturali da una parte ma dall'altra parte anche a poter assaggiare questi straordinari prodotti e questi straordinari vini. Oggi parliamo del Trento Doc, un vino eccezionale che ci sta dando soddisfazioni che nessuno di noi forse nemmeno immaginava ma soprattutto ha una qualità altissima che è apprezzata e vedo che chi lo sa raccontare o sa proporre in maniera giusta ha dei ritorni immediati, pensiamo soltanto alle 64 aziende e alle più di 160 etichette quindi orgogliosi di poter avere questo festival e orgogliosi soprattutto di farlo vedere ai nostri trentini ma anche a coloro che vengono qua apposta per assaggiare questo vino speciale. Grazie.